In attesa che il Governo intervenga per risolvere alcune incongruenze e criticità della misura del reddito di cittadinanza, proseguono i controlli della Guardia di Finanza per accertare la regolarità della posizione di chi ha chiesto questo sussidio perché si trovava in difficoltà economica. I militari del Comando Provinciale di Cagliari, in collaborazione con l'Inps, nel corso di una serie di controlli nel territorio di competenza, hanno individuato 21 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, incassando 134.000 euro. I controlli sono stati effettuati dalle fiamme gialle attraverso l'incrocio delle informazioni acquisite sul campo dai reparti territoriali con quelle presenti nella banca dati del corpo e nell'archivio dell'Inps. In particolare sono state passate al settaccio le autodichiarazioni presentate dai richiedenti con le informazioni relative agli stati di famiglia. Le indagini hanno consentito di riscontrare 21 soggetti che non avevano i requisiti necessari per il reddito di cittadinanza. In due circostanze si trattava di soggetti stranieri che non avevano diritto in quanto in Italia da meno di 10 anni. In 16 casi invece l'irregolarità è stata determinata dall'omissione nella dichiarazione al fisco di informazioni rilevanti quali i redditi percepiti o proprietà immobiliari che, se correttamente indicate, avrebbero posti richiedenti al di fuori dei limiti previsti per l'ammissione all'Istituto. In tre occasioni i soggetti avevano messo a indicare gli importi relativi a vincite derivanti dal gioco online. I 21 soggetti sono stati denunciati all'attualità giudiziaria e segnalati all'Inps per la sospensione del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Grazie. 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 Grazie.